lago di garda con debora corbetta forever al lago di garda stiamo andando a limone del garda tutto va bene arriveremo alle sette qua è una strada lunghissima non si arriva mai limone del garda eccolo qua limone si chiama limone tremosine sul garda vada via qui comunque il panorama è bellissimo però devo guardare anche la strada ma c'è gente in mare in acqua marina si è il lago in acqua sembra un po lago di como come starà però non lo è tremosine del garda che spettacolo perché spettacolo il lago ho finalmente preso proprio la parte più panoramica per riprendere c'è la niente in cima visto dove è in cima in cima in cima non so debbi corbi dentro di corbi non mi fai spaventare che non c'era niente fai spaventare il moto possiamo chiudere tanto qua non ci sta più niente